Prima che i tre tempi si differenziassero nei loro nomi, l'era senza nome, l'era di Lindimorio e l'era di Getzermin, Kasman Dund non esisteva ancora e l'abisso non era ancora stato battezzato. Vi era solo Bersku, nel quale Malcherubel ardeva come un fuoco perenne. Prima che ne fossero come noi li conosciamo, che Malcherubel, piando il respiro dell'antaglio, mentre dava forma al mistero del mare sotto di lui, pensò. E' un masso di calore che si contorceva nella sua illimitatezza. Allora Bersku volle far esplodere quell'immensa eccitazione, che ardeva sbranando a se stesse non in stanza. Certo è bella la figlia di mio padre, quanto è bella il suo alzarsi, riconfiarsi, sospinta dall'alito di mio padre. Ordinò, è la cosa più meravigliosa che si possa aver mai vista. Ella è tanto immensa e si è aperta qui sotto di me e copre le superfici dell'abisso, sino all'orizzonte e nei miei pensieri, ancora senza forma e senza nome. E' l'acqua che era riscesa dalla volontà di suo padre, all'improvviso fra i fulgori del fuoco, presa a distendersi. Quel mare era l'antiliuro. La sua voragine mi attrae e io impazzisco nel far cadere il mio sguardo in mezzo alle sue acque misteriose. Non posso resisterne. E' tanto bella. E mi seduce in modo continuo con il suo turbinare e il suo ondeggiare. Per poter amplare la superficie turbolenta delle sue onde. E poi si ritirava, laddove Bersku l'aveva messo. E' scese su di lei e vi si eccitò. Scese più volte, risobbedendo a suo padre. Ma in un momento di estrema eccitazione, aprì la sua bocca di fuoco, dalla quale colò del magma incandescente. La sua saliva toccò le sue acque, penetrandole e con essa riscendola. E se anche il seme del fuoco, vi fu un tuono tale che le acque si aprirano in un gorgo immenso. Sollevandosi, scoppiò una tempesta. Gesù, che conosceva bene il fuoco di suo figlio, in quanto era padre di se stesso, sapeva che questi, messo innanzi a un desiderio così intenso come quello di compenetrare il mistero dell'oscurità, non avrebbe rispettato il decreto, cercando di sfogare la sua voglia in qualsiasi modo. Conosceva bene Marco Rubel, poiché aveva plasmato la sua mente come un tizone ardente. Marco Rubel non era solo suo figlio, era Berscu stesso, e il suo riflesso nell'oscurità dell'abisso senza nome. Dunque, ne conosceva ogni pensiero, già prima che questo potesse essere da suo figlio immaginato. Grazie.